Ciao ragazzi, questa che sentite è la Peugeot RCZ Puzza Puzza che per me invece è solo il profumo dei motori Prove libere sono andate benino, ho fatto qualche errore, mi sono girato in un paio di occasioni Però il tempo non è malissimo, 2.08, sono a 5 secondi da capelli A un paio del mio compagno di squadra Massimo Arduini Fra poco le qualifiche, poi vi tengo aggiornato Ovviamente ci sarà un servizio su Sky Sport F1 HD Lo vedete, con le immagini del solito, grande Pino Scandinato Ciao